Buongiorno a tutti, sono Francesco Galofaro, sono un docente di semiotica, ho un assegno di ricerca presso l'Università di Torino, in particolare nel bando IRC Nemosancti, diretto da Jenny Ponzo. Come molti di voi sapranno si tratta di una grande ricerca europea che ha come fine lo studio del modo in cui cambia la nozione di santità, il concetto di santità dopo il Concilio Vaticano II, quindi nella seconda parte del Novecento. Qui sono in veste di ricercatore, intervengo al seminario sulla persona e presenterò quella che è la nozione di persona nel dibattito fenomenologico e in particolare ci concentriamo su tre autori, Max Schiller, che io leggerò senza vergogna Scheller, Max Schiller, Edith Stein e Karol Wojtyla. Trattandosi di un intervento molto lungo, in questa prima parte io mi concentro su Max Scheller e su Edith Stein, mentre dedicherò un altro video alla discussione della nozione di persona nella fenomenologia di Karol Wojtyla. Che altro dire? Ecco, io non sono un fenomenologo, quindi questo primo caveat, non sono un fenomenologo, sono un semiotico, di conseguenza sicuramente la mia esposizione di quella che è la fenomenologia, la posizione fenomenologica sulla persona risente a dei limiti, a degli ovi limiti. In compenso però utilizzerò la semiotica per analizzare questo particolare oggetto di studio, per decostruirlo, per quindi cercare di vedere come funziona dentro a questo particolare ambito filosofico, dentro a questo particolare discorso. Le cose che troveremo funzioneranno nel dibattito fenomenologico, probabilmente invece non hanno alcuna rivelevanza per quello che riguarda il dibattito filosofico più generale, così come altre nozioni di persona che noi possiamo trovare all'interno del discorso giuridico o in altri ambiti. Un piccolo caveat, la fenomenologia è un tema caldo nella ricerca semiotica attuale, ci sono state anche delle lacerazioni molto preoccupanti, perché sicuramente una parte della semiotica pensa che si debba rifondare la semiotica stessa andando a cercare le proprie radici nella fenomenologia. Ma qui noi non prendiamo questa, non stiamo prendendo questa posizione, anzi stiamo considerando questo genere di discorso come un oggetto che al pari di altri può essere analizzato e di cui possiamo rendere conto nei termini dei nostri strumenti. Comincerei anche con quella che è la prima parte di questo video, sarà divisa in tre, quindi prima di tutto andrò a presentare tre autori, in breve Edmund Nusserl, Max Scheller ed Edith Stein, di cui ci occupiamo, poi approfondiremo quella che è la teoria della persona in Max Scheller e infine ci occuperemo del rapporto tra persone e collettività in Edith Stein. Quindi cominciamo dai personaggi di questo dramma e ecco subito Edmund Nusserl, che è una personalità estremamente interessante, fu uno scienziato, ebbe un'educazione scientifica, un matematico, un filosofo approfondì la logica e nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento inventò questo metodo della fenomenologia il cui primo tentativo, il primo obiettivo era quello di un ritorno alle cose stesse, un metodo che ci permette quindi di raggiungere un massimo di realismo nelle nostre descrizioni degli oggetti. Ebbe poi, nella seconda parte della sua vita, una svolta, chiamiamola così, una svolta di carattere trascendentale che lo portò a occuparsi del soggetto che analizza, vede, comprende ed è legato da un rapporto, da una relazione intenzionale con l'oggetto. In questa svolta non fu seguito da quelli che sono i suoi allievi della prima ora e che anzi lo criticarono per aver abbandonato appunto le cose stesse e il realismo. In realtà, nella critica recente, sembra che esista una coerenza tra il lavoro del primo e del secondo Husserl, una coerenza che probabilmente i suoi allievi non seppero cogliere. Ad ogni modo, nella seconda parte della sua vita fu anche vittima delle leggi razziali tedesche in quanto era un ebreo e quindi dovette anche ritirarsi dall'insegnamento. Fu in qualche modo una vittima di quello che fu uno dei suoi allievi più brillanti, Heidegger, il quale prese in mano l'università nel 1933 e l'università tedesca e fu purtroppo tra coloro che si distinsero nella caccia all'ebreo e nella... Ma bene, questo ci porta a divagare. In realtà vorrei andare avanti presentandovi invece Max Scheller che anagraficamente per formazione non è un allievo di Husserl. Max Scheller è un collega che tuttavia trova che il metodo di Husserl sia estremamente fertile, il metodo fenomenologico, e quindi negli anni dieci decide di utilizzare il metodo di Husserl per l'indagine di una ontologia regionale molto specifica, cioè quella dell'etica. Max Scheller era un convinto sostenitore che si potesse fare una indagine scientifica dell'etica materiale, di conseguenza si potesse oltrepassare quelli che sono i limiti dell'etica così come li aveva impostati Kant un secolo prima di lui, perché Kant si era limitato a disegnare un'etica scientifica di carattere formale. In realtà quindi Max Scheller pensa che la fenomenologia possa servire per costruire un'indagine materiale dell'etica, un'indagine sui valori, sulle preferenze, sul legame tra individuo e valori, sulla persona, su un insieme di nozioni che Kant e il cantismo avevano lasciato da parte o trascurato che il loro metodo non gli permetteva semplicemente di affrontare. Anche lui è di origine ebraica, nonostante questo per un periodo che poi coincide con quello delle sue indagini fenomenologiche, si avvicinò moltissimo al cristianesimo e abbandonò anche durante la Prima Guerra Mondiale quelle che erano le sue posizioni della prima ora per sposare il pacifismo e tutto ciò fece sì che il suo pensiero divenisse un riferimento per il mondo cattolico in quel periodo e anche oltre, nonostante alla fine lui rivedesse alcune delle sue posizioni e in particolare alla fine si convinse che non era corretta l'impostazione della sua ricerca su un dio di carattere personale. Però, questa cosa in realtà ci interessa meno ai fini dei nostri e del nostro lavoro di oggi. Vorrei invece procedere presentando Edith Stein. Edith Stein invece è un'allieva di Husserl. Era anche lei ebrea non osservante nonostante la sua educazione fosse stata religiosa. Ecco, lei invece a un certo punto si convertì al cattolicesimo e fece questa scelta radicale, divenne una suora di clausura e una carmelitana scalza per la precisione e quindi è una personalità sicuramente complessa. Non ha potuto diventare una docente universitaria perché donna nonostante i tentativi di Husserl di inserirla in quell'ambiente e è una personalità interessante perché la sua conversione avvenuta proprio diciamo così occupandosi del problema dell'etica e della verità la portò ad approfondire anche il pensiero otomista che la rende sicuramente interessante per i filosofi cattolici e anche per un filosofo come Carol Vojtiwa che poi alla fine da Papa finirà per farla santa per dichiarare la santa ma insomma anche la sua posizione di carmelitana la porta al confronto con Santa Teresa ad Avila e quindi ad approfondire la mistica insomma le direzioni della sua ricerca sono tante e varie e quindi sicuramente una filosofa di prima grandezza e che attende ancora però di essere approfondita nel senso che sono ancora pochi i filosofi in Italia per esempio la professoressa Lesbello ma insomma sono pochi a occuparsi di lei e sicuramente invece meriterebbe molta più attenzione morì essendo ebrea morì ad Auschwitz e anche questa è una delle tante ragioni per cui è diventata santa ci occupiamo ora della teoria della persona in Max Schiller che è centrale fondamentale per il dibattito fenomenologico Max Schiller è il primo ad avere applicato il metodo il nuovo metodo della filosofia che Husserl andava elaborando a questa ontologia regionale a questo oggetto peculiare che è l'etica alla ricerca quindi di una conoscenza scientifica sull'etica un'etica di carattere materiale il suo progetto era quello di andare oltre quelli che sono i limiti del cantismo che ci aveva consegnato un'etica del tutto formale un'etica fatta di enunciati come appunto la legge morale sopra di me il cielo strato sopra di me la legge morale dentro di me insomma un'etica che però non entrava nel merito di quelli che sono i valori per superare questo secondo Schiller è possibile applicare la fenomenologia a questo campo noi chiaramente non approfondiamo più di tanto però ci interessa la nozione di persona perché tutto il dibattito fenomenologico contemporaneo coevo a Schiller e seguente in qualche modo la recupera la discute la ritiene centrale magari con sfumature ma insomma vorrei anche precisare che noi ci occupiamo della persona per adesso prima di introdurre la definizione ci occupiamo della persona per ciò che non è cosa non è la persona cosa non possiamo ridurre la persona vedremo che non possiamo ridurre la persona alla razionalità non possiamo ridurre la persona alla memoria non possiamo ridurre la persona a quella che è la nostra consapevolezza o la coscienza e non possiamo ridurla all'io e via dicendo e poi dopo introduciamo la definizione di persona allora in primo luogo Schiller dice la persona non va identificata con la persona razionale quindi con la razionalità con la nostra parte razionale c'è sicuramente una parte razionale nella persona c'è anche una parte che è fatta di sentimenti che è fatta di esperienze insomma tutto questo va tenuto insieme perché deve connotarci come individuo lo fa anche per prendere le distanze da quella che è la nozione di persona che ereditiamo dalla filosofia scolastica qui vuole evitare che noi pensiamo che la persona sia una forma ecco che cosa che cosa per far capire questo punto che cosa che cosa posso dire posso dire questo facciamo finta che la razionalità coincida con le regole del sillogismo con la logica no facciamo un esempio di sillogismo il solito esempio per cui tutti gli uomini sono mortali Socrate è un uomo dunque Socrate è mortale se la razionalità coincide con questo genere di regole allora è chiaro che si tratta di una forma generale e non individuale ovvero se io sono razionale e tutti voi che mi ascoltate siete razionali se condividiamo la razionalità vuol dire che condividiamo questo insieme di regole non contraddistinguono me da voi o da altre persone ma sono di ordine generale sono una forma generale se noi riducessimo la persona a soltanto quello che è il suo lato razionale ossia queste regole allora saremmo tutti uguali tutti intercambiabili sostanzialmente nessuno indispensabile eccetera allora proprio questo vorrebbe evitare Scheller che poi è l'impostazione scolastica per cui ci sarebbe questa forma razionale che è l'anima che va a una sorta di presa sulla materia e le dona la sua propria forma ecco quando Umberto Eco cercava di spiegarci questa cosa ci diceva guardate come formattare l'hard disk l'hard disk è la materia e come dire il sistema che voi scegliete per archiviare i vostri dati può essere quello del Mac Journal il FAT32 che è ancora ereditato dall'RMS DOS quello che scegliete va a mettere una forma nella materia dell'hard disk va a formattare l'hard disk in qualche modo la razionalità nella concezione che ereditiamo dalla filosofia greca e della scolastica è questa forma generale che poi va a formattare la materia di cui siamo fatti di cui è fatto ciascuno di noi ma proprio questa conclusione vorrebbe evitare Remax Scheller perché secondo lui la persona dovrebbe rispondere di quella che è l'unità essenziale dei nostri atti cioè il fondamento dei nostri differenti atti ciascuno di noi quando agisce fa diverse cose durante il giorno ci svegliamo ci alziamo dal letto ci vestiamo mettiamo insieme tutti un insieme di azioni ecco quello che presuppone quello che è il presupposto dell'unitarietà di questi atti è la nozione di persona quindi quella è la direzione che lui vuole esplorare allora la persona non può essere considerata neanche con non solo come la mera sommatoria dei suoi atti abbiamo detto che è piuttosto il presupposto non è prendere gli atti e sommarli se noi prendiamo tanti atti diversi e li sommiamo otterremo quello che forse in semiottica potremmo chiamare un programma narrativo di base ma insomma è neanche con quelli che sono i vissuti dei singoli atti perché la persona è il modo di vivere ciascun atto quindi la persona non è neanche la memoria dei propri atti se la persona fosse la memoria dei propri atti allora un computer sarebbe una persona il computer è assolutamente in grado di tenere traccia una lista di quelle che sono tutte le proprie azioni in un file log per esempio e quindi come dire di rendere ragione di quella che è stata la sua giornata lavorativa diciamo ecco ma questo non basta definire una persona altrimenti le macchine sarebbero questo particolare tipo di macchine dotate di memoria sarebbero persone la persona non è nemmeno la coscienza o la consapevolezza questo perché la fenomenologia comincia con una definizione incomincia si distingue per la sua definizione di coscienza per cui la coscienza è sempre coscienza di qualcosa la coscienza è sempre relazione nei confronti di un atto ed è sempre una relazione che ha una sua propria direzione si chiama una relazione a carattere intenzionale ecco quindi la persona non è coscienza non è autoconsepevolezza non è soltanto l'oggetto della percezione interna ma è qualche cosa di più la coscienza è semplicemente una parte di un mondo molto più complesso che è quello delle nostre delle nostre del nostro essere persone individui ecco andiamo avanti diciamo anche che ecco c'è un legame tra la nozione di persona di Schiller ma è quella giuridica senza dubbio Schiller pensa che la persona sia tale perché è proprietaria del proprio corpo ecco questo è molto importante perché ci sono delle situazioni in cui noi non siamo proprietari del nostro corpo e il diritto il diritto contemporaneo oppure il diritto romano il diritto datato di tanti secoli fa ecco non riconosce una persona per esempio lo schiavo lo schiavo è una non persona in quanto non è proprietario del proprio corpo e può essere ucciso il nemico in guerra non è una persona può essere ucciso l'embrione se non è una persona una grandissima parte del dibattito biotico contemporaneo riguarda questo se non è una persona può essere ucciso il paziente in stato vegetativo o il paziente nella fase terminale della propria vita quando ormai come dire è attaccato una macchina la sua sopravvivenza dipende da una macchina quando è cerebralmente morto allora non è più una persona e quindi può essere ucciso ad esempio per favorire il trapianto di organi ecco però Schiller prende le distanze da questa nozione all'epoca di Schiller ovviamente non si trattava non si parlava di trapianto di organi perché la tecnologia e la ricerca medica non l'avevano ancora reso possibile però ci dice che il paziente in coma è una persona la cui personalità è semplicemente invisibile e dunque sfugge al giudizio ma non è che non ci sia e anche per quanto riguarda il bambino delle situazioni estreme come il bambino che è una persona virtuale o anche il malato di mente anche su quello si è dibattuto se è una persona oppure no quindi se è soggetto di diritti oppure no la risposta di Schiller è sì sono persone anche loro e quindi per Schiller la persona è proprietaria del proprio corpo che accidentalmente incorpora un valore e di conseguenza questo corpo è un oggetto di valore che va difeso la persona non è neanche l'io perché l'io è come dire l'io è opposto al tu è opposto al mondo qui anche qui abbiamo una concezione che magari anticipa un po' quella che è la nozione banvenistiana di annunciazione non c'è un io senza un tu non c'è un io senza un non io non c'è un io senza un mondo ma la persona il modo particolare che ha la persona di stare al mondo è quello anche di incorporare il mondo compresi tutti gli altri io al loro interno è un fatto che semplicemente dipende dall'esperienza e di conseguenza di conseguenza non può essere ridotta la persona all'io è come se nella persona ci fosse anche il mondo e di conseguenza anche gli altri tutti gli altri io il mondo è il correlato oggettivo della nostra esperienza ecco questa questione del correlato oggettivo tornerà molto spesso perché Schiller è un esponente della fenomenologia realista e la fenomenologia realista porta con sé questo assunto non c'è un'esperienza senza che questa non sia legata a un correlato oggettivo c'è sempre qualche cosa di reale nel mondo che è l'oggetto delle nostre esperienze anche se poi questo cosa sia va indagato scientificamente per fare un esempio c'è un'allieva di Husserl che si chiama Gerda Walter che ha dedicato la sua tesi di laurea alla telepatia e il suo assunto è proprio questo se ci sono delle persone che si riuniscono stanno nella stessa stanza e raccontano di avere delle esperienze telepatiche un correlato oggettivo di queste esperienze telepatiche ci deve essere ci deve essere poi magari non è quello che viene raccontato dalla comunità dei telepati ma magari va indagato con la scienza della fenomenologica ma un correlato ci deve essere questa è una posizione tipica della fenomenologia realista cioè della prima fenomenologia che Husserl è andato sviluppando negli anni dieci quindi qual è il correlato oggettivo dell'esperienza in generale è il mondo quindi nel mondo noi non possiamo fare a meno per definire la persona non possiamo certo definire la persona in opposizione al mondo di cui fa esperienza ogni persona individuale porta con sé il proprio mondo individuale la propria verità personale non a causa del relativismo perché Scheller non è un relativista ma del nesso essenziale che c'è tra persone e mondo proprio perché noi li co-definiamo insieme quindi ciascuno di noi giustamente è un individuo che fa esperienze del mondo e dei valori dell'etica e dei comportamenti a modo suo a modo proprio ecco questo è diciamo quello che è il punto di partenza dopodiché secondo secondo Scheller i valori però sono oggettivi sono reali sono là e vanno ricostruiti la sua non è vanno indagati scientificamente e ricostruiti la sua non è una posizione relativista ecco vado avanti ecco ci siamo giunti alla definizione di persona la persona è data solo là dove è dato un poter fare per mezzo del corpo che precede l'agire effettivo ecco questo è tratto dal formalismo dell'etica testo del 1913 pagina 499 mi interessa moltissimo questa definizione perché è una definizione che come dire su cui la semiotica può in qualche modo far leva per rendere conto di questo concetto di persona con le proprie categorie quindi in Scheller senza pretesa di generalizzare la persona è un attore perché la nozione di persona presuppone il corpo abbiamo detto è individuale perché non è una forma generale abbiamo detto non è soltanto la razionalità non è soltanto il Dregog è antropomorfo quindi ancora una volta perché è coinvolto il corpo non è una macchina non è un robot non è un cyborg non è un alieno non è Dio non è tante altre cose ecco e incarna la funzione di soggetto qualificato entro un programma narrativo soggetto qualificato entro un programma narrativo perché perché nel percorso narrativo canonico il percorso narrativo canonico secondo Gray Mass funziona così per potersi realizzare un soggetto deve prima aver compiuto un atto quindi deve essere diventato un soggetto attuale il protagonista attuale del racconto e prima deve essersi dotato di una competenza di un poter fare per fare un esempio per poter sposare la principessa l'eroe della fiaba deve avere prima squartato il drago e quindi deve essere diventato l'eroe attuale del racconto ma prima ancora deve essersi dotato della spada magica magari superando una prova posta da un mago dentro una foresta ma insomma deve essersi dotato di quella che è la competenza di quella che è il poter fare ecco allora qui Scheller ci sta dicendo questo la persona c'è soltanto dove c'è questo poter fare quindi la persona come vedete è il poter fare che precede un agire effettivo non un agire immaginato o sufficiente possibile quindi come dire effettivamente la persona deve realmente agire di conseguenza ma ecco per questo noi possiamo dire che sei persona soltanto quando sei soggetto di un programma di azione ecco e quando sei un soggetto qualificato quindi sei dotato di un tuo poter fare questo è soltanto un piccolo approfondimento semiotico per quelli di voi che appunto non se ne dovessero intendere so che alcuni tra gli utenti di questi seminari non sono esattamente dei semiotici questo è un piccolo programma narrativo nella formuletta di Gray Mass un programma narrativo abbiamo una funzione del fare e abbiamo soprattutto un soggetto uno che fa fare qualcosa a un soggetto due un soggetto uno che fa sì che un secondo soggetto si congiunga con un oggetto di valore o si disgiunga da un oggetto di valore quindi abbiamo un soggetto uno che è il soggetto del fare e un soggetto due che è un soggetto di stato uno stato che può essere di congiunzione o di disgiunzione da un oggetto di valore ecco questo è in sintesi quello che noi intendiamo per programma narrativo è un far fare il soggetto numero uno di solito è chiamato destinante mentre il soggetto numero due è colui che materialmente si congiunge o si disgiunge dal oggetto di valore nell'azione quindi ritroviamo la saldatura tra soggetti oggetti e valori in questa piccola formula troviamo le relazioni in sintesi tra questi tre poli della relazione ora tutto il valore dal punto di vista semiotico circola nei testi soltanto nella misura in cui è investito in oggetti di valore sono gli oggetti che incarnano i valori non ci imbattiamo mai nei valori puri e semplici svincolati così da un qualche tipo di supporto che sia in grado di manifestarli ecco i soggetti si congiungono i valori solo attraverso la mediazione degli oggetti in cui essi si trovano investiti ecco questo è un piccolo recap un piccolo riassuntino che a partire dalla definizione che Greimas e Cortez danno nel dizionario di semiotica uno spero vi possa servire per inquadrare il discorso che andiamo facendo su Max Scheller ecco quindi abbiamo visto quelli che sono i tratti salienti dell'indagine di Max Scheller sulla persona ovviamente ci sono tante cose che abbiamo dovuto trascurare per motivi di tempo non siamo riusciti a parlare di quella che è la sua etica della gerarchia dei valori del modo in cui questa etica si storicizza la possibilità di un'indagine scientifica e filosofica su quest'etica che ci porti anche a cambiare le nostre considerazioni su questi valori e sulla loro gerarchia forse alcune cose le rivedremo quando parleremo di Wojtyla ma per ora vorrei passare all'indagine portata avanti da Edith Stein e in particolare al rapporto che c'è tra persona e collettività secondo questa importante filosofa che come ho detto sarebbe proprio il caso di riscoprire dunque partiamo dalla tesi di laurea di Edith Stein del 1917 e partiamo dalla nozione di empatia che sviluppa un'idea di Edmund Husserl anche se questo forse non è del tutto corretto io trovo che quando si fa una tesi di laurea chiaramente molto del lavoro è portato avanti dal relatore dal ragazzo dallo studente molto del lavoro è portato avanti anche dal suo dal suo tutor diciamo così quindi lo studente e il tutor il relatore condividono la responsabilità di ciò che viene fatto nella tesi di laurea quindi diventa difficile di conseguenza dire che la nozione di empatia è tutta di Husserl e Edith Stein l'ha sviluppata oppure Edith Stein ci ha lavorato e Husserl come dire l'ha fatta propria l'empatia è qualcosa comunque che gioca un ruolo estremamente importante perché risponde a uno dei problemi della fenomenologia che vedremo nel nostro secondo video cerca di rispondere alla domanda ma io sono un soggetto nel mondo ci sono gli oggetti ho spiegato sono riuscito a spiegare qual è il rapporto tra soggetto e oggetto però a un certo punto mi trovo di fronte a tanti altri individui a un mondo in cui ci sono degli individui altri individui e altre cose come faccio a dire che anche loro hanno lo stesso rapporto che ho io con il mondo e la risposta di Husserl e di Edith Stein è perché c'è l'empatia Scheller invece tira in ballo la simpatia comunque ogni fenomenologo come abbiamo visto Gerda Walter addirittura indaga la telepatia ogni fenomenologo comunque si imbatte in questo problema in questo scoglio è un problema che caratterizza quindi tutta la fenomenologia in quanto tale il rapporto con l'altro prima o poi ci si sbatte contro comunque secondo questa impostazione secondo l'impostazione e l'indagine dell'empatia vi sarebbe un'esperienza originaria che ci distingue e che è il dolore non solo il dolore ovviamente anche altre emozioni anche altre passioni diciamo però il dolore è un'esperienza originaria anche nel senso di semplice non riducibile ad altri e non ulteriormente scomponibile e il correlato dell'esperienza del dolore è qualche cosa di reale prima di tutto lo sappiamo già abbiamo già detto ogni esperienza presuppone un correlato reale è presente ed è oggettivo c'è una cosa però interessante una cosa è provare dolore e una cosa è ricordare di aver provato dolore quando io ricordo un dolore che ho provato non succede che quel dolore si manifesta di nuovo per fortuna io per esempio tanti anni fa mi sono rotto una spalla ancora oggi quando cambia il tempo la spalla in qualche modo mi avvisa una specie di barometro nella naturale nella spalla ma se tento io ricordo sicuramente di avere provato dolore un dolore anzi piuttosto intenso quando mi sono rotto la spalla poi sono stato anche operato e via dicendo quindi insomma è stata una vicenda abbastanza drammatica era un dolore di tutto rispetto perché mi hanno imbottito di antidolorifici ecco ma fortunatamente io ricordo l'esperienza del dolore ma non ricordo il dolore nel senso che non è che quando ricordo il dolore il dolore riparte e si fa sentire con quella intensità terribile questo per fortuna succede con il dolore sia con il dolore fisico sia con il dolore morale spirituale che corrisponde a quelli che sono grandi episodi drammatici della nostra vita ecco magari alcune delle persone che mi seguono hanno provato il dolore non so che che corrisponde per esempio all'essere lasciati dal fidanzato o dalla fidanzata ecco a distanza di anni per fortuna noi possiamo ricordare di avere provato quel dolore ma senza che questo rinasca in noi con le caratteristiche lancinanti che ha quando effettivamente questo questo accade allora per questo possiamo dire che il correlato della memoria del dolore è la sua esperienza cioè l'esperienza del dolore ma non il dolore in sé ecco ci abbiamo messo tantissimo ma siamo riusciti a spiegare questa frase che altrimenti risulta un po' un po' criptica allora anche il correlato dell'empatia per fare un passo avanti è l'esperienza del dolore anche in questo caso abbiamo una presentificazione allora cerchiamo di spiegare anche questo passaggio che anche questo sembra molto difficile la fenomenologia è difficile è una veramente difficile sia per il linguaggio tecnico che impiega sia per queste distinzioni molto sottili ecco ma vediamo quindi cosa cosa vuol dire quando io sento dell'empatia nei confronti di una persona provo dell'empatia nei confronti di una persona che sta soffrendo il correlato dell'esperienza empatica è l'esperienza del dolore e non il dolore in sé ancora una volta non è che se io vedo una persona con un coltello piantato nel palmo della mano sofferente e provo dell'empatia nei confronti di questa persona nel senso che anch'io provo una compartecipazione a quello che è il suo dolore ma questo non significa che ho un dolore nel palmo della mano o che provo il suo stesso dolore men che meno che mi si produce un taglio nel palmo della mano men che meno immaginando che ci sia una frattura delle ossa che senta il dolore nelle ossa non è a questo livello estremo che si spinge l'empatia è più un'esperienza di compartecipazione al dolore degli altri e quindi essere in gioco è l'esperienza del dolore quindi abbiamo uno strano diciamo una strana relazione per cui l'empatia è un'esperienza il cui correlato è un'esperienza quindi è un'esperienza di un'esperienza è esperienza dell'esperienza del dolore complesso sicuramente complesso ma per andare avanti c'è anche una presentificazione che è la stessa che è in gioco quando abbiamo la memoria del dolore quando io ricordo il dolore che ho provato alla spalla c'è una presentificazione di quella esperienza l'esperienza appartiene al passato ma io in qualche modo la richiamo nel mio presente la riattivo nel mio presente ecco anche nel caso dell'empatia abbiamo una presentificazione dell'esperienza del dolore allora vi è anche però un ruolo importante giocato dalla fantasia anche la fantasia è un oggetto classico di indagini fenomenologiche anche lì Husserl ha dedicato un corso alla fantasia delle lezioni che sono state recentemente pubblicate nella traduzione italiana perché deve avere un ruolo nella fantasia perché altrimenti non potremmo provare empatia nei confronti di quelle persone le quali provano un dolore che non conosciamo ecco immaginiamo un dolore particolarmente straziante come può essere quello della perdita di una persona cara ma se io non ho ancora non sono in una fase della mia vita in cui io non ho perduto persone care non per questo non provo empatia nei confronti delle persone che hanno subito un lutto ecco il fatto di non aver subito ancora un lutto per fortuna c'è un periodo bellissimo della nostra vita quello della nostra giovinezza in cui non conosciamo il lutto ebbene questo non è però che ci impedisce di comprendere il dolore degli altri quando questo succede e di compartecipare al dolore degli altri quando questo succede questo perché c'è un ruolo della fantasia ecco l'empatia come dicevo prima risponde al problema del solipsismo del fenomenologo ossia il fatto che una volta stabilito qual è il nostro rapporto con il mondo l'esperienza una volta chiarite tutte queste nozioni alla luce della fenomenologia resta sempre da chiarire come facciamo a attribuire il nostro stesso statuto di soggetti e di persone viene da dire nel senso di Scheller anche ad altri se viviamo soltanto chiusi nel nostro mondo monadico nel nostro mondo nel nostro rapporto così con con il mondo non riusciamo poi a comprendere fino in fondo questa caratteristica che invece pare essere diffusa ovvero quello di concedere che anche gli altri provino le nostre stesse esperienze le nostre stesse piaceri il nostro stesso dolore e condividano anche quelli che sono i nostri valori morali ecco che l'empatia ci permette di passare da questo soggetto individuale che è la persona strettamente individuale un soggetto che come abbiamo detto ha una componente razionale una passionale che sono fuse in maniera in maniera unica tra di loro ci permette di passare invece a quella che è l'analisi di altri tipi di soggetti e di carattere collettivo sì rieccoci scusate ho dovuto fare una piccola pausa e riprendiamo appunto con la comunità perché si danno delle forme di condivisione empatica di un dolore o di un piacere perché no ecco e su questo Edith Stein basa la sua idea che ciascuno di noi oltre a essere una persona a carattere individuale possa anche entrare a far parte di una comunità e quindi la sua piccola analisi si concentra sul lutto collettivo e condiviso allora ovviamente partiamo dalla nozione di persona legata all'individuo e di conseguenza ogni individuo ha la propria tristezza questa tristezza ha un senso per lui questo perché come abbiamo visto già in Scheller il legame tra persona individuale e il mondo di esperienza è essenziale ok quindi ogni individuo ha la propria tristezza e ogni individuo è triste possiamo dire a mondo suo dal proprio punto di vista però ancora una volta c'è questo assunto base della fenomenologia realista che ci permette di dire che se c'è questo vissuto se abbiamo questa esperienza luttuosa c'è un correlato oggettivo e questo correlato oggettivo è la perdita di una persona cara allora questo correlato è lo stesso per tutta la collettività cioè per tutta una serie di altre persone che stanno intorno a noi quindi se ho perso abbiamo perso un parente allora non so mio fratello mia sorella mio amico eccetera tutte le persone che hanno come dire che stanno intorno a me hanno questo correlato oggettivo condividono questo correlato oggettivo e ne fanno a propria volta esperienza quindi corrisponde questo correlato a un contenuto di senso bello perché a questo punto abbiamo scomodato anche il senso e lì chiaramente noi semiotici ci buttiamo quindi ogni individuo può conferire la sua si capisce a questo correlato oggettivo una forma individuale nonostante c'è questa condivisione quindi possiamo fare possiamo scrivere come se questa fosse una piccola analisi di semantica strutturale che il termine collettività ha un significato complesso che può essere scomposto in tanti piccoli significati più semplici e questi tra questi significati c'è sicuramente quello di essere soggetto di poter essere soggetto e però c'è quello anche di essere collettivo quindi la collettività a questo punto è un soggetto collettivo mentre l'altro o la persona può essere scomposta come in questo modo come un soggetto di carattere individuale si preferirei forse scrivere persona qui persona benissimo ecco abbiamo capito in che senso soggetto abbiamo già fatto prima la nostra analisi è un soggetto qualificato che può è contraddistinguibile dal poter fare poter mettere in atto un certo tipo di comportamento allora così costruita la collettività a partire dalla condivisione e a partire dall'empatia capiamo che anche la collettività è contraddistinta dal suo ruolo di soggetto all'interno di un programma narrativo ecco quindi come vedete tutta questa costruzione questa analisi portata avanti da Edith Stein serve per spiegare come mai non solo gli individui ma anche la collettività possono portare tutti insieme avanti realizzare un'azione un atto un atto collettivo quindi sono soggetti di questo agire collettivo allora andiamo avanti in quanto ente in quanto così elemento dell'ontologia della metafisica la persona presuppone una relazione con altre persone essere persona non significa essere unici e irripetibili sottolinea Edith Stein ma essere in un riconoscimento reciproco attraverso l'empatia in altre parole cosa sta facendo Edith Stein sta lavorando sulla nozione di persona e ci sta dicendo che un'altra caratteristica della persona come a che si va ad aggiungere quelle che abbiamo visto finora è la dimensione relazionale le persone da sole isolate sull'isola deserta appunto il Robinson Crusoe non esiste non c'è non si dà questo caso si è persona soltanto in quanto si è in relazione con altre persone quindi c'è questa relazione di reciproco riconoscimento per essere persona io devo riconoscere che ci sono delle altre persone e queste altre persone devono riconoscere me come persona e viceversa si dà anche il reciproco quindi la natura la nostra natura è quella di esseri relazionali e essere sempre in qualche modo in relazione con altre persone non ci sono persone in un mondo in cui c'è un solo individuo ecco questa è forse una delle conseguenze di questo punto di vista di questa definizione che Edith Stein ci ha donato va bene Edith Stein continua sempre in questa sua disamina sulla persona con alcune considerazioni sulla chiesa e definisce la chiesa come una comunità prima di tutto come una comunità di destino quindi ci sono tanti tipi di comunità che appunto sono formate si vengono formate sulla base di rapporti di carattere empatico la chiesa è una comunità di destino perché? perché si basa su una responsabilità reciproca verso gli altri io persona ho una responsabilità di carattere morale nei confronti degli altri appartenenti altri componenti della comunità e la mia responsabilità è quella della salvezza la salvezza dell'altro ecco il mio impegno morale per la salvezza dell'altro questa è la chiesa appunto torna comoda Edith Stein in questa fase in cui ballare bene non si è ancora convertita è ancora una studentessa di Heidegger perfettamente laica che si sta scrivendo la sua tesi di laurea e si imbatte in questo esempio di comunità che è quello della chiesa però all'interno di un corso sulla semiotica della religione delle culture religiose direi che ci interessa questa nozione di chiesa è importante sottolineare questo fatto la persona è tale perché ha dei diritti e dei doveri abbiamo questo insieme di relazioni intersoggettive cioè di relazioni tra soggetti le relazioni intersoggettive riconoscono l'altro come persona quindi come portatore come me persona dei diritti e di doveri la circolarità intersoggettiva del riconoscimento è la base per la reciprocità universale e incondizionata attraverso l'istituzione dell'ordinamento giuridico cosa sta dicendo così come io riconosco nell'altro una persona a sua volta questo altro riconoscerà me e riconoscerà a macchia d'olio tutta una serie di altre persone si verranno a creare delle comunità sempre più grandi e sempre più estese e quindi si saranno normate da sistemi giuridici che riconoscono a tutti dei diritti e dei doveri e quindi avremo l'istituzione di ordinamenti giuridici che se tutto funziona così dovrebbero tendere alla universalità mi pare che questo non sia la prima volta che ci imbattiamo in un ragionamento simile perché anche in Peirce abbiamo visto che il ragionamento sull'amore evolutivo tende a costruire queste comunità sempre più grandi sempre più grandi e alla fine universali quindi a questo punto ci si può chiedere ma però non è così nei fatti in realtà vediamo non solo che ci sono tanti ordinamenti giuridici diversi non solo che vediamo che esistono gli stati sovrani che riconoscono dei diritti ai propri cittadini ma non riconoscono gli stessi diritti per esempio ai migranti a chi viene da fuori e poi ci sono degli stati e questa purtroppo era la drammatica attualità ai tempi di Edith Stein degli stati che discriminano i propri cittadini che tengono a costituire dei cittadini di serie A dei cittadini di serie B quindi come mai non riconosciamo a tutte e a tutti i diritti i doveri per cui perché non c'è nel mondo un unico stato a questo punto che coincide con la collettività umana un'unica comunità ecco questa è una bella domanda e purtroppo al tempo di Edith Stein era davvero di drammatica attualità perché avevamo il razzismo e si preannunciava anche un conflitto un conflitto mondiale il punto è che accanto alla collettività Edith Stein descrive un altro soggetto dell'agire collettivo che è la società ecco la società è tale perché il soggetto riconosce all'altro soltanto lo statuto di oggetto e non quello di alter ego quello di altro io io non riconosco io sono una persona e non riconosco all'altro lo statuto di persona non riconosco all'altro lo statuto di persona ma solo quella di oggetto oggetto che per esempio non so nel mio punto di vista è semplicemente uno strumento che mi serve per arrivare a dei fini miei propri quindi strumentalizzo gli altri immaginiamo che io sia un politico particolarmente cinico ad esempio che sfrutta la situazione di difficoltà in cui si trova una parte del mio elettorato di povertà o di indigenza per attribuire tutta la colpa a un nemico interno per esempio all'ebreo che specula e gli dica che la soluzione è quella di iscriversi al partito nazionalsocialista e di combattere di sottrarre potere agli ebrei ecco quindi vediamo che secondo questa analisi l'altro può essere considerato un oggetto individuale ecco quindi l'altro non è una persona l'altro non è un soggetto come dicevo facciamo finta di fare una piccola analisi in termini di semantica strutturale il significato di altro è un significato complesso che si può scomporre in significati più semplici e abbiamo un significato oggetto e un significato individuale ecco quindi la società dunque è una monade cioè si tende appunto a non attribuire ad altri il proprio stesso statuto e tende diciamo a rimanere rinchiusa all'interno del proprio microcosmo qui abbiamo una distinzione forte tra il pensiero di Edith Stein e quello del suo maestro Husserl perché Husserl in chiave trascendentalista direbbe che siamo sempre in una situazione di armonia intermonadica anche nel caso delle società ecco ma la Stein adotta un punto di vista realista che non mette fuori circuito l'esistenza dei vissuti pertanto solo nell'oggettività del vissuto possiamo cercare la via d'uscita dalla monade ecco questa è una differenza tra la Stein e Husserl Husserl a un certo punto sceglie la via della fenomenologia trascendentale e quindi a un certo punto mette fuori circuito tutta quella che è l'esistenza dei vissuti l'esistenza dei correlati oggettivi di esperienze per concentrarsi soltanto sul soggetto e sulle caratteristiche della sua esperienza a prescindere dall'oggetto a prescindere dal mondo e via e via e discorrendo e quindi persegue una strada che lo porterà alla fine della sua vita a sostenere che siamo sempre in questa situazione di armonia certo ciascuno di noi è una piccola monade ciascun soggetto è una piccola monade ma comunque si trova sempre in una situazione di armonia con tutte le altre monadi con tutti gli altri soggetti non approfondisco qui in questa in questa sede cosa è che porta Husserl a questa strada ma diciamo che la Stein invece mantenendosi fedele all'insegnamento del suo maestro quello della prima ora quello dell'Husserl degli anni dieci diciamo la Stein invece non mette mai fuori circuito il mondo considera sempre il mondo e questo la può portare a questa distinzione che è di carattere capitale tra la collettività da un lato e la società dall'altro quindi a differenza della collettività la società la società come dire non considera l'altro come una persona non lo fa necessariamente diciamo quindi un'altra distinzione interessante che Edith Stein è quella tra comunità e massa ecco se per continuare a semplificare le cose attraverso le nostre piccole analisi strutturali se l'altro è un oggetto individuale la massa è un oggetto collettivo e quindi abbiamo questo attore collettivo che però non è un oggetto delle proprie azioni ma è sempre un oggetto in un certo senso subisce è passivo la massa secondo Edith Stein è passiva non è possibile soggetto di nessun atto la massa si forma su un modello del contagio diretto tra il leader e l'individuo isolato il punto di vista della Stein è un punto di vista critico la dimensione intersoggettiva può essere sfruttata per generare degli effetti di conformismo di massa a me sembra un punto veramente importante ciò che vede la Stein nei suoi tempi è questo è Hitler è l'ascesa del partito nazista è il grandissimo potere di persuasione che il partito nazista riesce a ottenere sull'individuo attraverso i mezzi di comunicazione di massa e in particolare attraverso i giornali e la radio e l'anno diciamo così la cosa che Stein nota è proprio questo noi abbiamo la sensazione i mass media i mezzi di comunicazione di massa ci danno la sensazione di far parte di un attore che trascende i nostri limiti individuali quindi facciamo parte di qualcosa di più vasto e di più grande facciamo parte di una collettività ma questa collettività ci dice Lala Stein è una massa e non è una comunità perché questa collettività in realtà è passiva in realtà semplicemente subisce la fascinazione del leader il leader è colui che agisce è Hitler che agisce prende in mano la situazione come dire la grande massa dei suoi accoliti non fa che come dire accettare quelle che sono le azioni che Hitler e i suoi collaboratori e il suo partito quello che è insomma portano avanti e di conseguenza la dimensione intersoggettiva la dimensione delle relazioni che legano i soggetti tra di loro viene sfruttata in questi casi per generare degli effetti di conformismo non so se qualcuno di voi pensa che questa analisi sia tuttora attuale legata ai mezzi di comunicazione di massa certo i mezzi di comunicazione di massa di cui disponiamo noi oggi sono molto diversi non sono semplicemente la radio non sfruttano il broadcasting i nostri sono più interattivi però ci permettono di agire in molti modi però può darsi che una dimensione di conformismo e una dimensione di passività ancora oggi sia diffusa nei mezzi dei vecchi e nei nuovi media e che quindi questa distinzione tra comunità e massa sia ancora attuale avrei concluso sulla Stein volevo semplicemente fare un piccolo approfondimento semiotico perché questa nozione di contagio è qualche cosa di cui ci siamo occupati e in particolare se ne è occupato Eric Landosky in quella Eric Landosky in quella che lui chiama la seconda socio-semiotica quella che lui è andato sviluppando a partire dagli anni 2000 nei suoi lavori allora Landosky cerca di ritornare sul problema del contagio e dice che il contagio opera una trasformazione su noi stessi secondo il modo in cui la relazione con l'altro con il suo habitus tende a farci essere quindi noi in qualche modo accettiamo di venire trasformati dall'altro questo altro ha un suo habitus ha un suo modo di essere quindi noi lasciamo che il nostro proprio essere si conformi a questo altro poi distingue da un contagio diretto che presuppone soltanto la presenza del corpo dell'altro e quello che succede quando ci sono queste risate contagiosi c'è qualcuno che a un certo punto incomincia a ridere in maniera folle e tutti noi veniamo contagiati dalla stessa risata e poi esiste un contagio indiretto che invece presuppone un vettore così come nel caso dei virus quindi magari una mediazione di carattere segnico non lo so ecco ci sono oggi in tempo di coronavirus direi che è molto interessante andare ad approfondire anche quelli che sono i contagi culturali la paura legata al virus la paura come dire la rinuncia ad alcune delle nostre libertà fondamentali o sebbene magari temporanea il contagio anche di quella che può essere la riscoperta di temi di carattere religioso tutte cose che stanno accadendo un po' i nostri occhi è importante perché per l'andoschi si oppone il contagio alla manipolazione se ricordiamo la formula del programma narrativo per cui abbiamo un destinante che fa fare qualcosa a un soggetto quindi lo manipola in qualche modo lo convince ad agire a fare qualcosa il contagio invece presuppone una interazione tra due sensibilità in qualche modo questo è quello che 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 ci dice l'andoschi ecco su questo approfondimento semiotico questo approfondimento semiotico mi sembrava necessario sempre nel tentativo di appunto leggere semioticamente quelle che ci dicono questi fenomenologi e non accontentarci banalmente di di sussumere quelli che sono i loro i risultati delle loro analisi e le loro categorie all'interno del metalinguaggio semiotico cioè della teoria semiotica perché in qualche modo la semiotica in realtà è proprio lì per cercare di aggiungere qualcos'altro per cercare di aggiungere soprattutto il fatto che viviamo in un mondo che è fatto di senso in cui il senso si trasmette attraverso dei sistemi di segni e questi sistemi di segni non sono assolutamente né trasparenti né problematici ma al contrario sono una grandissima parte del problema e appunto in gran parte alcune delle nozioni e delle distinzioni che come dire questi autori fanno a proposito della realtà sociale che li circonda sono anche un problema di semantica come abbiamo dimostrato e quindi coinvolgono le parole e coinvolgono il vocabolario il nostro vocabolario quotidiano politico e la loro dimensione semantica e la sua dimensione semantica bene io per adesso quindi concludo qui la mia prima esposizione seguirà a breve un secondo video in cui vediamo come questi concetti e queste nozioni sviluppate da Scheller sulla nozione di persona e da Edith Stein sul rapporto tra persona e comunità e massa vengono poi riprese da Vojtiwa nella seconda parte del novecento e diventano la base della sua personale diciamo formulazione sia in termini etici sia in termini politici benissimo quindi vi saluto e vi do appuntamento alla seconda registrazione